L'ereditarietà è una relazione tra classi, una relazione che si chiama di generalizzazione e specializzazione, è una relazione tra una classe più specializzata che si chiama classe derivato sotto classe e una classe già esistente che è più generica, più astratta che si chiama superclasse. Attenzione, se una classe è dichiarata come public final non può essere derivata. Facciamo un esempio di classe public final. Vedete questa classe? La classe string che abbiamo usato un sacco di volte per le stringhe, osservate la sua intestazione, public final class string. Siccome c'è questa parola chiave final non è possibile estendere questa classe, quindi non ci possono essere sottoclassi della classe string. La sottoclasse può essere estesa o aggiungendo delle variabili di distanza, degli attributi in più. La sottoclasse può ridefinire alcuni metodi della superclasse. Ecco la parola chiave overwriting che avete visto comparire spesso sopra il metodo toString quando lo andate a definire. Questa parola sa indicare che il metodo toString è un metodo che voi state ridefinendo nella sottoclasse, quella che state scrivendo voi, ma che è specificato nella superclasse della vostra classe. Allora, per non fare parole a vuoto, questo metodo toString che vedete qua, non c'è scritto override, ma lo posso andare a scrivere io, quindi chiocciola override, override. Vuol dire che questo metodo è una ridefinizione di un metodo già esistente, un metodo che si trova nella superclasse di questa classe cerchio. Ora, siccome qui non c'è scritto extends, io non so qual è la superclasse, mentre qui so che la superclasse di mio cerchio è cerchio, perché c'è scritto extends e cerchio, quale sarà mai la superclasse di questa classe che non riporta nell'intestazione extends? Senti, tutte le classi che non hanno extends qua dopo il nome della classe sono sotto classi di object. object è la superclasse di tutte le classi java, quindi posso andare a cercare la classe object sempre nell'API java. La classe object è praticamente la classe immaginatevi un albero di natale, la stella in cima e la classe object. Difatti la classe object non ha superclassi, mentre se prendo un'altra classe, quindi ritorno sulla classe string, vediamo se riesco a tornare indietro così. Vedete che la classe string invece, qua nella documentazione, qua c'è il nome della classe string e sopra la classe string vedete java.lang.object. Allora, intanto i nomi delle classi nella documentazione sono riportati con tutto e anche il nome del package, quindi vuol dire che la classe object si trova all'interno di un package, che è il package java.lang, che è l'unico package che viene importato automaticamente, non c'è bisogno di importarlo, dove c'è la classe mat, la classe string e altre classi di utilità, system. Invece la classe string si trova sempre nel package java.lang, quindi nella stessa cartella dove si trova la classe object, ma è una sua sottoclasse. Difatti, guardiamo l'intestazione della classe classi, public final class string extends object. Quindi questa classe estende la classe object, ma anche la nostra classe. Tutte le classi che scriviamo noi, se non è diversamente specificato, estendono la classe object. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la classe string, ma anche la classe che abbiamo fatto noi, cerchio, la classe cerchio, eredita dalla sua super classe tutti i membri public. Quali sono? Andiamo a vedere. Allora, il costruttore no, non viene ereditato. Il costruttore è proprio della classe object e non lo può usare nessun altro, però nei metodi. Protected, poi vediamo cosa vuol dire. Ecco, questi sono tutti i metodi public, dove non c'è scritto niente, sono public. Quindi il metodo equals viene ereditato dalla classe object. E anche il metodo toString viene ereditato dalla classe object. Cosa significa questo? Significa che se io non lo ridefinisco, il metodo toString, quindi adesso lo vado a togliere, non è che non funziona. funziona. E se non fosse ereditato mi darebbe errore, mi direbbe il metodo toString non esiste. Invece non mi dà errore. Il problema però è che esegue il metodo toString della classe object. Quando noi richiamiamo un metodo, in questo caso facendo la stampa qui è come se noi stessimo richiamando il metodo toString sopra questo oggetto. Non c'è bisogno di scriverlo, però diciamo che è la stessa identica cosa. Quindi io adesso l'ho scritto in questo modo, non ce n'è assolutamente bisogno di scrivere così, però così lo metto in evidenza. Quando viene chiamato il metodo, si va a cercare se nella classe di mio cerchio, qual è la classe di mio cerchio? E' questa. Quindi si va a vedere se in questa classe esiste il metodo toString. Quindi ricerca. Non c'è. Allora siccome questa classe stende cerchio, si va a cercare nella classe cerchio. Ma anche nella classe cerchio non c'è, perché io l'ho commentato come se non ci fosse. Non c'è neanche qui. Allora l'ultima spiaggia qual è? Andare a vedere se c'è nella classe object. E nella classe object c'è. Il problema però è che viene eseguito il metodo della classe object. Il metodo della classe object restituisce, vedete, questa cosa qua, il nome della classe, chiocciola, e poi un intero generato attraverso una funzione hash. Viene generato un numero casuale, ok? Un numero casuale che identifiche in maniera univoca questo oggetto. Infatti faccio rivedere il ciò che è stato prodotto in output. Esempio 2, il package, punto mio cerchio, la classe, chiocciola e questo numero. E' un numero esadecimale. Un numero casuale. Non è il comportamento che voglio. Allora, l'unico modo che ho per poter far fare una cosa diversa a ToString è andare nella classe cerchio e ridefinire questo metodo. Quindi, ridefinirlo vuol dire che mantengo lo stesso a firma del metodo. Adesso poi andiamo a vedere che sono uguali, ma che ne cambio il comportamento. La firma è identica. Per firma intendo questa parte qua, eh. Public string to string. Andiamo a vedere se è vero che è identica. Public string to string. Per ridefinire un metodo non devo cambiare neanche una virgola di questa intestazione. Mentre, certamente, cambierà il comportamento. Perché se no, perché dovrei ridefinirlo, no? Non avrebbe senso. E di fatto il metodo ToString, ridefinito nella sottoclasse cerchio, è questo. Ora, nella classe mio cerchio, io non ho bisogno di ridefinire il metodo ToString, perché la classe mio cerchio, se richiamo ToString, userà quello della sua superclasse, che è più che sufficiente. Perché? Perché nella sottoclasse non ci sono ulteriori variabili di distanza. Quindi basta produrre in output il raggio. Infatti a questo punto, dopo aver fatto queste variazioni, aver definito, ridefinito, overwrite il metodo ToString, se vado a eseguire il codice, non ottengo più un numero esadecimale, ma ottengo al nome della classe, eta parentesi, il valore del raggio. Quindi, stavo dicendo prima che una classe può essere derivata da una superclasse, andando ad aggiungere degli attributi in più, ma non è obbligatorio, o andando a specificare dei metodi in più, oppure ridefinendo dei metodi che già esistono nella superclasse, quindi mantenendo la stessa firma, modificando l'implementazione, quindi il codice interno. Queste sono le tre possibilità. Naturalmente non ha molto senso andare a creare una sottoclasse se non facciamo almeno una di queste cose, no? Perché altrimenti creeremo una classe uguale, quindi non ha senso. Quindi le relazioni di generalizzazione e specializzazione eta classe individuano una gerarchia. Le classi in cima alla gerarchia sono più generali, più astratte, man mano che si scende si trovano sempre delle classi sempre più specializzate, cioè che fanno sempre delle cose in più o che hanno una struttura più complessa. Questo è un principio importante, in realtà non è così semplice, è molto più complesso, però io adesso a me interessa vedere un aspetto solo di questo principio, che è questo. Guardate questo insieme, questi due insiemi. Quindi l'insieme formato da tutti gli uomini e poi l'insieme formato da tutte le persone. Quindi l'insieme formato da soli uomini è un sotto insieme di persona. Perché cosa ci sta dentro a persona oltre agli uomini? Le donne. Quindi è vero che preso un elemento del sotto insieme uomo, questo è sempre una persona, ma se prendo una persona non è detto che sia un uomo, perché potrebbe essere una donna. Allora, quando io parlo di uomo, posso anche sostituire perché un uomo è una persona. Quando io parlo di una persona, non posso sostituire persona con uomo o con donna, perché non lo so se è un uomo o una donna. Vi leggo la definizione. Gli oggetti di una super classe possono essere sostituiti con oggetti della sottoclasse senza influenzare il comportamento del codice che li usa. Per esempio, data la classe persona e la sottoclasse uomo, un oggetto della classe persona può sempre essere sostituito con un oggetto della classe uomo. Tutto questo in che cosa si traduce? In questa cosa qua, che si chiama poi polimorfismo. Io posso definire una variabile u di tipo persona oppure una variabile u di tipo uomo, ok? e andare a creare un'istanza di uomo in entrambi i casi. Perché posso farlo? Perché vabbè, un uomo è un uomo, certamente. Però un uomo è una persona. Significa questo. Qua nei programmi, nel codice, quando noi andiamo a scrivere persona u o uomo u, cosa stiamo definendo? Quando io scrivo qui, mio cerchio, mio cerchio. Cosa sto facendo qui con questa istruzione? Una variabile. Una variabile. Un oggetto no, perché l'oggetto non esiste. Questa è una variabile di tipo mio cerchio. Variabile di tipo mio cerchio. Perché mio cerchio, non smetterò mai di ripetervelo, è un tipo di dato. La variabile mio cerchio è una variabile locale al main, ok? Questo mi sembra che l'abbiate capito cosa sono le variabili locali. Mio cerchio è locale al main. Però mio cerchio è anche una variabile. Perché non contiene un valore, ma contiene un indirizzo, un puntatore all'oggetto in memoria. E poi non in memoria a caso, ma in una specifica memoria, che è una memoria gestita dinamicamente, che si chiama heap. Conterrà l'indirizzo dell'oggetto in memoria quando l'oggetto verrà creato. L'oggetto esiste, non esiste ancora. Chi è che va a, diciamo, che tiene traccia di questa informazione, che va ad allocare la variabile? È il compilatore. Il compilatore opera quando non c'è ancora il programma in esecuzione. Il compilatore, se io qua scrivo, invece di mio cerchio, scrivo la M minuscola, già mi segna l'errore. No? Perché il compilatore agisce ancora prima dell'esecuzione del programma. E mi dice, guarda, non esiste il mio cerchio. Difatti, io correggo l'errore e l'errore sparisce. Il compilatore alloca. Cosa vuol dire che alloca? Si tiene traccia del fatto che mio cerchio è di tipo mio cerchio con la M maiuscola. E tiene traccia anche di quanto spazio occuperà questo dato all'interno della memoria. Questa operazione, quindi, associa la variabile mio cerchio al suo tipo. Questa operazione è un'associazione fatta a tempo di compilazione, quindi è statica. In inglese si dice binding statico, binding, binding statico. Adesso, se scendiamo, andiamo a vedere nella prossima riga di codice questa istruzione. Questa è molto diversa dalla precedente. Perché questa istruzione utilizza un operatore new. E questo operatore, questo operatore new, naturalmente fa sì che questo oggetto venga creato. Quindi viene proprio creato l'oggetto con le sue variabili interne, eccetera. E viene associato alla variabile mio cerchio che abbiamo definito in precedenza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qua dentro ci finisce l'indirizzo di mio cerchio, di questa variabile, di questo oggetto. Inoltre questo oggetto viene creato nella heap. Ma questa operazione, questa associazione tra la variabile mio cerchio e l'oggetto può avvenire solo in fase di esecuzione. Ci siamo? Quindi dichiarazione della variabile reference avviene in fase di compilazione tutta la locazione della variabile reference. Invece la creazione dell'oggetto avviene in fase di esecuzione. L'unica cosa che il compilatore fa è controllare che il costruttore mio cerchio esista e sia richiamato in maniera corretta. Ma non associa l'oggetto alla variabile perché l'oggetto non esiste ancora. Verrà creato solo durante l'esecuzione del codice. E' un'associazione che viene fatta in fase di esecuzione e allora si parla di binding dinamico. Quindi qua si parla di binding statico, binding. E qua invece si parla di binding dinamico. Molto bene. Chiarito questa cosa, adesso riprendo le slide e vediamo se riesco a fare un ragionamento che vi aiuti a comprendere. Guardiamo queste due istruzioni. La prima dichiara una variabile reference u. Quindi il compilatore tiene traccia che u è una variabile di tipo persona. Poi la dichiarazione che vedete sotto invece dichiara sempre la variabile con lo stesso nome. Naturalmente non nello stesso programma. La variabile u come di tipo u. Sono due tipi diversi. E fa questa associazione questo binding statico. Cosa significa? Significa che con u io posso usare tutti i metodi o comunque i membri public che si trovano dentro a persona e a tutte le sue super classi. Qua posso usare tutti i metodi che si trovano dentro uomo più tutte le sue super classi. Quando io vado a creare l'oggetto vero e proprio lo creo sempre come istanza della classe uomo. Quindi in realtà a runtime, cioè in fase di esecuzione, questi due oggetti sono la stessa cosa. Non sono diversi. E' solo per il compilatore che appaiono diversi. Ma in realtà sono lo stesso oggetto. Questa proprietà per un oggetto di avere aspetti, forme diverse, si chiama polimorfismo. Che significa proprio avere forme, molte forme. Voi adesso potreste domandarvi, va bene, è questo che cosa me ne faccio. Vi faccio subito un esempio. Abbiamo una classe persona. La P maiuscola. E una classe uomo. che estende persona. E' una sottoclasse di persona. Bene, adesso supponiamo di avere anche un'altra sottoclasse di persona, donna. Supponiamo oltretutto che magari la classe, adesso non sto a scrivere tutto il codice, lo faremo sicuramente in un esercizio del genere, ma adesso mi interessa il concetto. Supponiamo che l'uomo abbia anche un attributo militare, booleano, no? Ci dice se ha fatto il militare o meno. E che la donna abbia, che ne so, maternità, se ha avuto dei figli. Quindi, uomo e donna sono uguali perché derivano da persona, quindi hanno gli stessi attributi, gli stessi metodi di persona perché li ereditano. In più, l'uomo ha un attributo in più militare con i suoi metodi get-militare, set-militare, e la donna ha un attributo in più ma diverso da quello di uomo che è maternità con i metodi get-set, get-maternità, set-maternità. Anche il metodo toString sarà poi diverso, no? Perché per uomo restituirà anche militare, per donna restituirà maternità, o il valore di maternità. Ora, supponiamo di voler creare un array contenente uomo, oggetti uomo e oggetti donna. Come dovrei dichiararlo questo array? Come devo dichiarare questo array? Cosa devo scrivere? Vi ricordo che l'array si dichiara così. Bisogna scrivere il tipo base, cioè il tipo degli elementi contenuti. Poi si mettono le parentesi quadre, poi si mette il nome dell'array, e poi si crea l'array uguale new. Si scrive di nuovo il tipo base e la dimensione. Questa è la, diciamo, la regola per dichiarare l'array. Ora, proviamo a dichiarare un array che può contenere oggetti uomo e oggetti donna. Aspetto le vostre risposte. Ecco, e cosa ci sta qua dentro? Cosa posso mettere dentro questo array? Allora, se io scrivo int int a uguale new int dim, dove dim ha un valore, che cosa posso mettere qua dentro questo array? Numeri interi. Numeri interi. Se scrivo string, s uguale new string, con una certa dimensione, cosa posso mettere dentro questo array? Se scrivo cerchio uguale new cerchio dim, cosa posso mettere dentro questo array? Oggetti di tipo cerchio, cioè oggetti che vengono creati con il costruttore della classe cerchio. Creo un oggetto con il costruttore e poi lo vado a mettere dentro all'array cerchio, ossia faccio una cosa del genere. Creo un'istanza di cerchio, cerchio c uguale new cerchio. Mi passo il raggio, che ne so, 5, aspettate che metto la maiuscola. Quindi qua mi creo un'istanza di cerchio, ossia un oggetto cerchio. e poi lo vado ad assegnare all'array cerchio, c con indice 0 uguale, devo cambiare nome, c con indice 0 uguale cerchio. Quindi qua posso assegnare direttamente degli interi ad A con indice 0, posso assegnare l'intero 10, perché questo è un array di valori primitivi, di tipi primitivi, con elementi di tipo primitivo. Qua posso andare ad assegnare direttamente la stringa, perché le stringhe sono gestite come se fossero tipi primitivi, anche se non lo sono. Quindi posso scrivere a s con indice 0, assegna, non ne so, ciao. Ok? Qui non posso, perché non posso, perché prima devo creare l'oggetto e poi dopo lo assegno. Dentro ad un array di elementi di tipo uomo posso solo mettere degli oggetti che vengono creati con il costruttore di uomo, cioè oggetti che andrò a creare con il costruttore di questa classe. Posso mettere anche degli oggetti donna, cioè creati con il costruttore donna? Certo che no! Bravo! Posso mettere gli oggetti di tipo persona, perché una persona può essere donna e uomo. Quindi qui posso mettere solo oggetti creati con il costruttore di uomo. Se creo un array donna uguale new donna eccetera eccetera vim. Qui posso mettere solo, quindi solo uomini, tanto per intenderci. Qua solo donne, ma io voglio creare un array che può contenerli tutti e due. Ora, sfruttando il principio di sostituzione di Liskov che mi dice che una donna è una persona, che un uomo è una persona, il problema si risolve così. Dichiarando un array con tipo base persona, i uguale, new persona, new persona aperta dim chiusa, punto e virgola. E poi mettendo dentro questo array differentemente o uomini quindi creati con il costruttore della classe uomo o donne create con il costruttore della classe donna. Perché? Perché il compilatore, il compilatore va a controllare se gli oggetti che noi inseriamo dentro questo array sono di tipo persona. Ora, uomo è di tipo uomo ma è anche di tipo persona perché è una sottoclasse. Donna è di tipo donna ma anche di tipo persona perché? Perché è una sua sottoclasse e quindi a livello di binding statico cioè a tempo di compilazione io posso creare persona b uguale new donna con il costruttore di donna e poi andare ad assegnare al array p nella posizione per esempio 0. Questo oggetto dico appena creato. Il compilatore non si lamenta perché non si lamenta perché notate qua ci ritroviamo la stessa cosa che vi ho fatto vedere sulle slide. Vedete? Lo stesso oggetto creato con il costruttore uomo può essere dichiarato come di tipo persona o di tipo uomo. Quindi il compilatore non si lamenta perché va a vedere. Ma questo d, la variabile d, siamo a livello statico, l'oggetto non esiste ancora. Di che tipo è? Di tipo persona. Ci sta dentro questo array? Sì perché l'array contiene elementi persona. Quando poi passiamo all'esecuzione invece di creare un oggetto generico di tipo persona verrà creato un oggetto tipo donna. Quindi c'è una distinzione tra quello che è il tipo a tempo di compilazione e il tipo a tempo di esecuzione. Ecco qua c'è proprio l'esempio della classe mio cerchio riepilogata ma non so se è uguale a qualsiasi. Sì è uguale a quella che ho fatto io, no? Quindi la classe cerchio senza calcolarea, la sottoclasse mio cerchio con calcolarea. Facciamo proprio l'analisi. Allora, la sottoclasse mio cerchio estende la classe cerchio con la parola chiave extends che è la parola chiave per definire una classe come sottoclasse di un'altra. Dentro questa classe c'è solo il metodo calcolarea che va, abbiamo visto, a restituire appunto pi greco per il raggio al quadrato facendo però attenzione al fatto che siccome il raggio qui non c'è, ma è nella superclasse, dobbiamo usare il metodo getRaggio per recuperare il suo valore. E questo l'abbiamo già visto ieri.